5 seconds of summer signori allora la mia attività di questa giornata diciamo dopo la nottata che mi lascio alle spalle di festeggiamenti, musica, disco music house classic, queste cose qui intanto ritorno a fare anch'io il DJ sarà a base di acqua tanta acqua, tanta acqua un po' intensa insomma se sentirete un botto in diretta il mio capocciono che sbatte sulla console sul mixer alle 14.05 allora teniamoci su anche grazie a Barba Tuches insieme a Pablo Fierro questo è Baiana su Radio Globo